Presa di posizione del leader dell'opposizione Francesco Pastore dopo la richiesta di chiarimenti sulla situazione di Sardone ed Ostaglio, inviata dal sindaco di Ponte Cagnano Faiano Giuseppe Lanzara agli organi competenti. Il primo cittadino e il commento di Pastore, oltre a denunciare i suoi alleati sindaci PD Vincenzo Napoli e Antonio Giuliano, spieghi al Consiglio Comunale, quindi alla comunità, la reale consistenza dell'emergenza. Chiarisca alla città il mistero che avvolge Ostaglio e Sardone, cosa viene conferito e da dove proviene. La minoranza, inoltre, dopo aver chiesto un Consiglio Comunale monotematico sull'ambiente, propone anche di attuare il progetto Rifiuti Zero, già approvato in Consiglio Comunale all'Unalimità nel 2013 e in Giunta nel 2017.